Augusta, operazione Global Fishing, controllo filiera pesca, sanzioni per 10.200 euro. Nei giorni scorsi si è conclusa una complessa campagna concentrata di polizia denominata Operazione Global Fishing, effettuata dai comandi territoriali del Corpo delle Capitinerie di Porto Guardia Costiera ubicati nell'area di giurisdizione della Direzione Marittima della Sicilia Orientale, avendo lo scopo nello specifico di effettuare le opportune verifiche sulla filiera della pesca, sia in mare per mezzo delle unità navali militari che a terra, sottoponendo a controllo esercizi commerciali, pescherie, ristoranti, mercati rionali e venditori ambulanti. In particolare, per quanto concerne le operazioni svolte dalla Capitineria di Porto Guardia Costiera di Augusta, i controlli hanno riguardato sia le acque marittime di giurisdizione che i comuni rientranti nell'ambito del compartimento, nello specifico i territori in cui sono state riscontrate violazioni alla normativa del settore, per quanto di competenza, sono stati Augusto e Franco Fonte. Numerosi sequestri per un ammontare di circa 115 kg di prodotto ittico, per violazione delle disposizioni che prevedono sia l'obbligo della tracciabilità che della etichettatura, o per infrazione alle disposizioni che disciplinano la commercializzazione del pesce spada, e per pesca in zone vietate. Tali sequestri, tra cui un esemplare di pesce spada sotto misura, sono stati effettuati in un supermercato di Augusta, in un ristorante di brucoli, nel mercato rionale del giovedì di Augusta e nel mercato rionale del mercoledì di Franco Fonte. Parte del prodotto ittico giudicato e idoneo da parte dei servizi veterinari competenti è stato donato in beneficenza, mentre la restante quantità non giudicata edibile, sempre ad opera dei servizi veterinari, è poi stata avviata a corretto smaltimento. È stato anche sequestrato un fucile subacqueo per attività di pesca esercitate in ambito portuale. Le sanzioni amministrative combinate assommano circa 10.200 euro. Tali controlli continueranno anche oltre il periodo durante il quale si è svolta l'operazione Global Fishing. Grazie.